Musica Eccoci, buonasera da Cisciano Notizie dopo l'incontro che si è avuto del Cisciano contro la seconda squadra del campionato l'onore stasera con noi del presidente dell'ASD Juveness Cisciano lascio a lui i commenti e i futuri protostici Salve, è stata una bella partita oggi difficile, giocavamo contro la seconda del campionato alla fine i ragazzi sono stati premiati per il lavoro il duro lavoro che hanno fatto in settimana e poi sono uscite fuori soprattutto nel secondo tempo le qualità tecniche dei nostri campioni tre gol bastano per oggi sono abbastanza sono abbastanza bellissimo spettacolo oggi c'è stata anche una coreografia dei tifosi che da brividi ci siamo divertiti e la capolista se ne va la capolista se ne va si infatti volevo ricordare che questa è la terza partita della Juveness Cisciano è il terzo risultato positivo per la Juveness Cisciano gli auguro un grande in bocca al lupo e alla prossima buonasera da Cisciano Notizie allora eccoci ancora da Cisciano Notizie è stata una partita di campionato di terza categoria e la Juveness Cisciano ha vinto per 3 a 1 con il risultato di 3 a 1 è stata una partita molto tirata, molto agguerrita i ragazzi nel primo tempo, come capita spesso anche nelle precedenti partite il primo tempo sono scesi in campo un pochettino contratti e non sono riusciti a sviluppare il loro solito gioco poi nel secondo tempo sicuramente la musica è cambiata e abbiamo visto delle trame di gioco anche abbastanza fluide, belle si è visto un po' di calcio giocato perché in pratica la nostra squadra essendo anche molto tecnica preferisce giocare palla a terra e quindi quando questo di solito non è possibile è chiaro che viene un pochino a mancare come contenuto di gioco e di conseguenza siamo riusciti poi a fare i 3 gol che ci hanno dato la vittoria si si infatti è vero, è stata veramente una bella partita fatta di belle azioni ok allora vi saluto da Cisciano Notizie e al prossimo incontro, buonasera buonasera a tutti quanti voi e tanti saluti a tutti i telespettatori di Cisciano Notizie ciao allora eccoci sempre da Cisciano Notizie abbiamo con noi uno dei pilastri portanti dell'A.S. di U.S. Cisciano appunto Nicola Falco infatti volevo ricordare che lui è il capocannoniere della squadra nostro bomber e infatti adesso gli lascio il microfono per avere due commenti su come è andata la partita e poi della sostituzione che ha avuto grazie al mister e poi al giocatore Pasquale Candice come è andata la partita? la partita diciamo il primo tempo abbiamo avuto difficoltà a tenere il controllo della palla e buttavamo alla cieca un po' davanti anche loro cioè è partita un po' tesa poi secondo tempo fortunatamente abbiamo trovato il primo gol che ci ha dato un po' di calma e poi giocando un po' più la palla abbiamo trovato la seconda e la terza rete però c'è partita non è che abbiamo fatto chissà che dobbiamo ancora crescere c'è la strada da fare ancora c'è ancora presto per far andare vittoria cioè siamo solo in alcune di tre partite c'è tutto da fare ancora infatti volevo ricordare tre partiti e tre risultati solo per ricordare ai nostri telespettatori per adesso a quante rete stiamo? da parte sua parte mia uno quattro vabbè se segno è grazie alla squadra cioè no grazie a me quindi c'è il merito di tutta la squadra però il merito anche tu anche di chi non gioca che ci fa allenare bene comunque gli allenamenti sono importanti per l'argomento il gruppo c'è speranza un'altra cosa e la sostituzione che è arrivato verso la fine del secondo tempo verso l'ottantesimo veramente l'ho chiesta io perché sono un po' influenzato e quindi non ce la facevo più a correre allora è meglio per la squadra che è meglio uscire che stare lì fermo in mezzo al campo bene ok giusta intervista giusta risposta e da Ciccia Notizie vi salutiamo grazie a voi buonasera grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi